Focus GR3. Due sguardi particolari sul PNRR nel nostro approfondimento. Sui fondi europei di Next Generation, gli interessi della criminalità organizzata, i rischi ai settori più ambiti da mafia, camorra e indrangheta. Si discute questa mattina all'AIA nella sede dell'Europol. Per l'Italia sarà presente il vice capo della polizia prefetto Vittorio Rizzi, che guida l'organismo di monitoraggio e analisi del rischio di infiltrazione nell'economia. Lo ha intervistato Ariane Di Giorgio. Si tratta di un'iniziativa per poter analizzare quelli che sono gli strumenti di prevenzione e contrasto in vista dell'arrivo di questi fondi del Next Generation. Il rischio è elevato? Intervenire anticipando la minaccia è l'unica strategia da perseguire. Quali sono i settori che più fanno gole alla criminalità organizzata? Penso per esempio alla Green Economy, dove confluiranno gran parte di questi soldi. E qui porteremo proprio la mappatura degli indicatori di rischio. È una minaccia solo italiana? L'andrangheta è monitorata dalle forze di polizia in 37 paesi del mondo, di cui 22 europei. È evidente che la minaccia oggi è una minaccia globale. Pensare che sia un problema italiano è un errore di prospettiva. In questo momento il law enforcement italiano presenta il sistema Italia, quel sistema che ha consentito negli anni di contrastare le mafie e che oggi devono poter essere condivisi con le forze di polizia di quei paesi dove questa minaccia può presentarsi, anzi si è già presentata.